Solo la gestione dei privati potrà salvare la fiera di Foggia dall'inesorabile declino. Ne è convinto il presidente Fedele Cannerozzi a pochi giorni dall'inaugurazione della campionaria internazionale dell'agricoltura che dal 30 aprile al 3 maggio ospiterà più di 100 espositori provenienti dall'Italia e non solo. L'attività fieristica è un'attività industriale e quindi come tutte le attività industriali necessita di investimenti e know-how industriali, imprenditoriali. Non può essere il pubblico a gestire le fiere. L'ente fieristico di Foggia è in gravi condizioni economiche come tante altre fiere, in particolare al sud. I 17 dipendenti non percepiscono lo stipendio da 4 mesi, ciò è dovuto soprattutto al mancato o parziale versamento dei canoni annui da parte dei soci fondatori. In particolare la provincia è debitrice di 900 mila euro, esattamente il totale del costo anno degli stipendi. La Camera di Commercio non ha corrisposto il dovuto del 2013, circa 50 mila euro, mentre Comune e Regione sono in regola con i pagamenti. Continuiamo a fare una manifestazione fieristica senza investimenti e dunque una manifestazione fieristica che ripete se stessa da 65 anni. È un dramma perché una manifestazione non può ripetersi così, è necessario innovarla. Il 31 marzo è scaduto l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse rivolte ai privati per cedere la gestione delle attività. Il bando però è andato deserto. Devo dire che purtroppo siamo in buona compagnia perché anche la Fiera del Levante, il suo primo bando, è andato completamente deserto.